Sabato 18 novembre riparte il concorso Miss Aurora. La Kermess è nata quattro anni fa proprio da dove sabato riparte, in Villa Martina, a San Bruson di Dolo. 23 concorrenti pronti a contendersi il pass per la finale di agosto in Villa Ducale. Quest'anno ci sarà una grande novità. Tutte le prime classificate riceveranno un mini scettro in vetro di Murano, accompagnato dalla corona sempre in vetro di Murano. Presenti alla serata anche tutte le finaliste di Miss Aurora 2023 che sfileranno per noti brand del territorio. Special guest Edoardo Costa. Ciao, sono Edoardo Costa e volevo darti un appuntamento importantissimo. Ti aspetto sabato 18 novembre alle ore 20 a Villa Martina di Dolo per il concorso di Miss Aurora. Io sarò in giuria e passeremo una bellissima serata insieme. Non mancare, ti aspetto. Ci vediamo sabato 18 novembre alle ore 20 a Villa Martina, vicino a Dolo. Ciao, ciao.